Allora è le sette della mattina e adesso bisogna che svea Davide però Allora vieni con me un attimo che mi fa vedere una roba Siccome questa notte l'ha detto che ero un chiesava allora si ha portato Davide Davide Senta te hai sicuro? Tu dormi o di gusto? E ti dormi o? Io dico a questa notte si che mi sono tracciato Che ero di notte ho dormito Sto a svegli tutta notte perché te russi come hai trattato Che ora hai? Voi sette io Ah? Voi sette? Dio cazzo anni sette Dormi ancora E ti dormi ancora Diamo? Dai che dai che nemmo i vesti dai Su? Dai mettete le braga intanto Va bene dai Viste molto quelle tardi che sta a cagare Anche con i tappi Anche con i tappi Voi Anche con i tappi Voi Buongiorno Grazie.